21 luglio 2019 calignaio bellissima giornata di sole e di mare mare calmo la spiaggia è praticamente zibilla i geni bellissima giornata di sole e di mare il 45 per cento dei libornesi va al mare a pirene l'altro 45 per cento va al mare sui bagni al volno solo il 10 per cento circa i libornesi si inerpica in queste zone da cape per fruire di un mare pulito e di una natura relativamente incontaminata poi ci sono pisani fiorentini e un buon numero di stranieri che in genere vanno ad imbarcarsi per l'isola d'elba ma sia all'andata che al ritorno fanno una sosta per fare un bagno a calignaia e poi andare a mangiare al ristorante ciao ciao